Ehm, è incredibile come io riesca ad essere terrificante qualunque inquadratura faccia, non riesco a risolvere. Vabbè, vi cuccate questo. È da un po' che voglio fare questo video ed è da un bel po' che voglio raccontarvi la storia che vi sto per narrare. Ma prima, due parole dallo sponsor, che poi è narrato da me, ma questa è un'altra storia. Lo sponsor di oggi è NordVPN. Per chi non lo sapesse, il VPN serve a navigare su internet in maniera del tutto anonima e naturalmente molto, molto sicura. Nascondi le tue tracce, fai in modo che nessuno sappia dove sei, con chi vai, con chi parli e soprattutto quando ci parli. Molto semplice da usare, NordVPN ti permette di cambiare semplicemente tra uno stato o l'altro così come ti aggrada. A proposito, questo video l'ho registrato io da solo, sono bravissimo. NordVPN è il VPN più veloce in circolazione. Oltre 5.400 server in 59 paesi diversi. Vai dove vuoi, senza muoverti di casa. Vai in un qualunque paese e guarda i contenuti dedicati solamente ad esso. Questo è molto altro con NordVPN. E oltre agli incredibili sconti che potete trovare ogni giorno su nordvpn.com, se utilizzate il codice GATTOSULTUBO avrete un ulteriore sconto super ficcante. link in descrizione. E ora andiamo avanti. Oggi voglio parlarvi di uno dei giochi più belli che io abbia mai giocato e di come mi sia stato portato via troppo velocemente. Così giovane, così giovane. Parlando del gioco giovane, io no. Ovviamente sto parlando di SOS. Ma andiamo con ordine. Per chi non lo conoscesse, SOS è, o meglio era, un gioco survival dove 16 giocatori venivano catapultati su di un'isola abitata da mostri terrificanti. O forse no. Insomma, sta a voi decidere cosa è terrificante o no. Comunque, questi qui. Che cazzo? Cosa ho fatto? Ho lanciato l'ascia per errore. Niente. E lasciami stare. Ma solo 3 di queste 16 persone potevano scappare da quest'isola. Mi sa che non sarò tra i tre finalisti. Le tre persone che riuscivano a acchiappare la reliquia. Che è veramente duro. Lo ammazzavi e... La prima volta che ho visto il trailer di Steam era uscito da circa un mese, se non sbaglio. Ed è stato amore a prima vista. L'ho acquistato subito e nonostante fosse un'ora tarda, subito dopo la mia live, mi ci sono attaccato e ho giocato veramente tanto. Era febbraio 2018. Esattamente un mese dopo l'uscita. In accesso anticipato. Mi sono innamorato di quel gioco perché non era semplicemente survival. C'era questa componente teammate dove tu parlavi con gli altri giocatori e ti organizzavi per poter sopravvivere il più possibile, però poi accoltellargli alle spalle per riuscire a scappare con la reliquia. Insomma, aveva una forte componente ruolistica, un bel gameplay e... Quella sera lì, dopo essere andato a letto completamente cotto, ho deciso che avrei registrato il gioco l'in domani mattina. Infatti, nonostante un raffreddore terrificante e un inglese addirittura peggiore, è venuto fuori questo video. Da quel giorno direi che si è aperto un mondo. È partita la serata settimanale dedicata alla partita SOS con i subscriber. Sono io. Serate meravigliose e divertenti, soprattutto perché non solo potevo creare una partita privata, ma chiacchierare e giocare e tradire le persone che mi seguono tutti i giorni. Potevi inventare lo schetrame per poter fottere i tuoi avversari. Guardi che la uccido io, eh. Era pensato anche per chi non partecipava attivamente al gioco. Infatti, l'audience poteva guardare in diretta ogni singolo personaggio tramite il sito del gioco, switchare tra tutti i punti di vista e votare a fine partita quello che era più simpatico o più carismatico e dargli un premio, oppure dargli dei regali durante la partita, come armi, cure, un po' come in Hunger Games. Votò il defibrillatore che magari ti possono tirare su, sai? Potevano anche lanciarti un esplosivo, ma questa è un'altra questione. Insomma, SOS ha agliettato moltissime delle nostre serate. Nel corso del tempo, ahimè, purtroppo è diventato ripetitivo. Infatti, come tutti i giochi in accesso anticipato, o inizia ad aggiornarli, oppure il troppo stroppia. E qui entrano in gioco gli sviluppatori. Bravi, perché hanno aggiunto nuovi oggetti, la modalità notturna che si poteva giocare solo al buio con le torce. Tutto figo. Bravi, bravi. Purtroppo, però, nel giro di poco tempo, già a marzo, hanno iniziato ad aggiungere fin troppi elementi PvP. Vi spiego. SOS era un titolo molto difficile, perché questi 16 giocatori avevano a disposizione un'ascia, piuttosto che un coltellino, e dovevano per forza collaborare per poter uccidere i mostri. Le pistole erano estremamente rare. Quindi è stato strano iniziare a vedere fucili a pompa, cecchini, mitragliette e cose di questo tipo. Questo non portava più alla cooperazione da parte dei giocatori, contraddimento successivo, ma a ti sparo, ti ammazzo, così non devo pensare più a te dopo. Quindi, Battle Royale. E... A maggio 2018 nasce SOS, la Battle Royale. Capiamoci. Da quando nel 2016 H1Z1 è uscito con la sua Battle Royale, di lì un delirio incredibile. Qualunque tipo di Battle Royale andava bene su piazza. PlayerUnknown, Fortnite, Island of Nine, Cousin Royale. Anche se adesso ho cambiato nome. Insomma, un mondo di Battle Royale. Quindi nel 2018, già soffocati da questo mare di Battle Royale, un titolo così innovativo, così nuovo, che si basava su altro, che si trasforma in Battle Royale, purtroppo non poteva avere vita facile e soprattutto è finito in un mare di merda. Quindi, il gioco originale era diventato la Battle Royale, ma se io volevo giocare al vero gioco originale, semplicissimo, bastava scaricare SOS Classic. Dopo il periodo di lancio, il gioco ha iniziato a lievitare il suo prezzo e quindi è uscito sostanzialmente a prezzo di 30 euro, se non ricordo male. Difficilmente qualcuno spende 30 euro per giocare l'ennesima Battle Royale, anche se era incluso il Classic. Quindi Outpost Game è scesa in campo e ha deciso di risolvere la situazione. Free to play! Però, per renderla Battle Royale free to play, hanno eliminato SOS Classic. Quindi, c'è gente che ha comprato un gioco, che è diventato un altro gioco, che è diventato free to play. Soldi ben spesi! Ma Outpost arriva e dice, tranqui! Hai comprato il gioco prima che diventasse una Battle Royale e prima che diventasse free to play? Ci hai dato i tuoi soldi per supportarci? Noi ti vogliamo bene e ti regaliamo dei vestiti per la Battle Royale free to play. Capisco che il gioco aveva iniziato a ristagnare, però, ehi, è il vostro primo anno, sono passati solo alcuni mesi dal lancio. Prima di farlo diventare una Battle Royale gratuita, potevate fare qualcosa di nuovo, che so, aggiungere qualche mappa, aggiungere qualche tipo di nemico, aggiungere qualche meccanica di gioco per renderlo un po' più difficile, gestire meglio magari l'utenza che dopo un po' usciva di testa e iniziava a cazzeggiare. No! Battle Royale free to play. Ed è qui che l'odio dei giocatori di SOS, entrambi, ha portato l'hashtag bring back old SOS che nell'11 agosto dello stesso anno del day one ha riportato in vita il gioco originale. Gennaio esce il gioco, maggio diventa una Battle Royale, la Battle Royale diventa free to play, eliminando il gioco originale e ad agosto, perché sto contando, vabbè, e ad agosto il gioco originale ritorna, nello stesso anno, bravi. Tra l'altro free to play, quindi tutto è bene quel che finisce bene, o forse no. Dopo alcuni fix più o meno interessanti, che però non hanno migliorato effettivamente il gioco, e con l'utenza che ormai dopo i vari cambi di rotta era sparpagliata in giro se non addirittura morta, a novembre 2018 SOS chiude i battenti. 11 mesi, nasce, cresce, corre velocissimo e muore, è agghiacciante vedere come questo titolo sia partito benissimo per poi chiudere neanche dopo un anno. La cosa più imbarazzante è che per scrivere questo titolo ho fatto molta fatica, perché tutti i link nei tweet di PlaySosGame non mi apre effettivamente il sito di SOS, perché hanno venduto il dominio a un sito di giochi per il cellulare. C'è anche un bambino con la faccia birbona che mi piglia apertamente per il culo, infatti l'ho preso molto sul personale, bastardo. E non solo quello di SOS, ma anche quello di OutpostGame, insomma, puff, ed ecco così. Non c'è un lieto fine in questa storia, non c'è una morale, non c'è nulla, semplicemente un'idea meravigliosa, mal supportata, abbandonata davanti ai primi problemi. Finita in questo baratro di merda e schifo. Sono molto triste. Questo video non so neanche perché l'ho fatto, perché effettivamente è un gioco che è morto, nato e morto, anzi, nello stesso anno e dovrebbe essere una ferita chiusa. Cosa che invece non è, perché mi manca moltissimo, mi manca tantissimo un gioco come SOS. Mi manca molto qualcosa di innovativo, di diverso, che poteva esserci dato, ma ci è stato portato via molto alla svelta. Questo video è più uno sfogo personale per passare oltre. Adesso sono triste, però. Ah, sì, c'ho un'idea, c'ho un'idea da youtuber, senti qua. Scrivete, se avete giocato a SOS, qual è stato il miglior momento. Mamma mia. Porco cazzo. Player jump 1, cos'è player gravity? Mettiamo 0. Porca troia. Mi sa che ho sbagliato. Qualcuno ha trovato una reliquia, qualcosa? Come funziona quella bomba? Ok, Google, chi è più forte su SOS? E niente. Ma sì, ma vieni, ma vieni, ho vinto. Ma vaffanculo, stronzi. Tiè, ci la fa qua, merda. Mamma mia, mamma mia. Toh, toh. Ma toh. Che mi spara? Oh, 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 oh. Ma siamo pazzi, siamo pazzi. Bastardo, mi ho vinto. Dove cazzo siete? Perché siete? Allora. Sto accanto a te, gatto. Bisogna spaccare il muro. Aia. Ma allora, allora. Ehi. Il muro, mica me, imbecille. Dove si accende la torcia? Ma perché questo gioco qui è andato così male? Ci giochiamo solo. Che peccato. Perché non è possibile che un titolo così sia andato in merda. Io sono triste. Perché è veramente un gioco che merita. Merita di essere giocato, merita di essere apprezzato.